Il 10 agosto 1995 a Campobasso da mamma Angela e papà Guido nasce Kevin Magri. Allora noi iniziamo questa nostra puntata, il Cavese One to One, con la conseda domanda iniziale. Che bambino è stato Kevin Magri e benvenuto. Buonasera a tutti, grazie per avermi invitato a questo programma. Ma niente, Kevin è stato un bambino abbastanza tranquillo, sin da piccolo, insomma, come si vede anche nei giorni d'oggi. Fin da piccolo ho corso di torno al pallone, non c'è stato verso di provarmi a fare altri sport. Ci abbiamo provato con il tennis, il nuoto, ma alla fine il pallone era rosondo e correva più forte degli altri sport. E quindi niente, sono un bambino tranquillo, senza grattacapi. Sì, 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 non ho mai dato fastidio a nessuno e ho sempre vissuto una vita tranquilla. Nel 1998 arriva Brooke, tua sorella, la prima di chiederti il rapporto con lei. Vedo Kevin e Brooke, ai tuoi genitori piacevano i nomi inglesi, mi sembra abbastanza. Sì, sì, più sull'americana, insomma, mamma ha scelto il nome di Brooke, Brooke Shield, come l'attrice. E a papà piaceva un calciatore, Kevin Keegan, che era tutto destro, ma io sono uscito tutto sinistro. Scherzi e destino. Il rapporto con Brooke, tua sorella? Un rapporto sereno, tranquillo. Lei adesso studia a Milano, io ogni tanto ci sentiamo telefonicamente, quindi ci vediamo raramente, perché anche se torno a casa il fine settimana non la trovo. Con lei non sono molto affettivo, insomma, però comunque mia sorella fa parte della famiglia come anche con i miei genitori, quindi per loro ci sarò sempre. Passata la fase da bambina, si diventa adolescenti e la fase è un po' più complicata, dove Kevin Magrits inizia a formarsi come calciatore, ma soprattutto anche come uomo, con la prima scuola a calcio, la Virtus. Sì, sì, va bene, ero veramente piccolo, quindi in quel momento il calcio era proprio un divertimento, non si pensava a niente, ci divertivamo, insomma. Ho immagini tuttora di partite con gli amici, sia in campo, sia in mezzo alla strada, come si faceva una volta, nei campetti abbandonati, quello era il vero divertimento di quando si è piccoli. Se ti faccio il nome di una persona, Giovanni Piccirilli. Giovanni è stato il mio primo allenatore, credo che lui mi abbia fatto appassionare più di tutti a questo sport, oltre al piacere personale, perché è una persona che tuttora lavora con i giovani, perché continua ad allenare. Mi ha fatto appassionare perché si vedeva proprio che ci sapeva fare con i bambini, insomma. Ci teneva tutti uniti, ci divertivamo, volevamo restare a fare allenamento anche dopo che era finita l'ora, insomma, perché poi sai, nelle palestre devi rispettare i tempi. Sì, e praticamente con lui passavamo anche il pomeriggio post allenamento, perché lui aveva un negozio vicino alla palestra dove ci allenavamo, e con una pallina di quelle che vendono anche nei supermercati, ci divertivamo a giocare anche nel suo negozio. Ci dicevamo anche ieri, prima di questa trasmissione, sei rimasto anche in contatto con mister Piccirilli, perché ancora oggi mi dicevi che vi sentite. Sì, sì, lui è di Campobasso e ovviamente le mie scelte, oltre che passare dalla mia famiglia, mio padre, che è anche abbastanza intenditore di calcio, la mia fidanzata Alessandra, chiedo anche il suo parere, quasi sempre, insomma, e per me è molto importante quello che mi dice, seguo anche i suoi pensieri. Prima di passare, diciamo, alla tua carriera, come si è svolta, non è la scaletta, mi ho in mente adesso, so che è una grande passione i videogames, se non sbaglio, con le macchine da corsa, ho visto alcune storie che sei proprio attrezzatissimo, c'è proprio il pedale. Sì, sì, ho messo insieme un po' i pezzi, anche grazie ai miei genitori, magari mi hanno regalato a Natale qualcosina tra volante e sedile, mi sono proprio attrezzato un piccolo simulatore, diciamo che accompagna nelle mie avventure ogni anno dove vado a giocare, anche perché ti permette forse di staccare la spina dopo gli allenamenti, le partite, di isolarti nella torre. Sì, per me è come un antistress, magari quella giornata in cui hai i 3.000 pensieri, io mi metto là davanti, un'oretta, due, guido, è come se fossi in macchina e mi diverto a rilassarmi in questo modo. Tornando alla carriera di Kevin Magri, cresci nel settore generale del Chio Verona, quindi da Campobasso, a Verona sono davvero tantissimi i chilometri, ti sei separato dai tuoi affetti, dalle tue abitudini, quindi una scelta di vita che ha richiesto un grosso sacrificio a Kevin. Sì, devo dire che questo è stato l'anno più difficile della mia vita sinora, perché anche se adesso ho 27 anni, mi sposto, ed è molto difficile sempre allontanarsi da casa, perché è una cosa che ti viene dentro, ma quando c'hai 14, 15 anni, sinceramente non so perché ho accettato di andare, cioè ad oggi mi spaventa il fatto che io a quell'età abbia accettato di vivere praticamente da solo con altri compagni di squadra ed è stata una sensazione molto strana in quel momento, perché poi non eri neanche vicino casa, magari dici in due ore posso tornare a casa, io tornavo solo a Natale e a Pasqua, perché alla fine la distanza era veramente molta, però devo dire che in quegli anni credo che io sia diventato un uomo, già a 15-16 anni vivendo da solo anche in appartamento ho cominciato a capire come era la vita, quali sono i principi, è stato molto importante. Un sacrificio che ne valsa la pena, perché ti ha formato forse nel carattere al mente, poi il proseguo della tua carriera, e in quegli anni di, quell'anno a Verona cosa ricordo, che ho fatto un sacco di presenze, anche qualche gol, e anche una fascia di capitano se non ero. Sì, nell'ultima stagione ero il vice capitano, poi si è fatto male il capitano e sono diventato io fino alle finali Scudetto e quando abbiamo alzato la Coppa, perché l'ultimo anno abbiamo vinto il campionato Primavera ed è stato uno dei momenti più felici della mia vita. Quegli anni sì, ho sempre giocato, insomma tra allievi e Primavera ho fatto un bel po' di presenze, quindi sono contento di aver fatto un settore giovanile lì, erano molto organizzati, veramente ci hanno messo a nostro agio, ci hanno fatto sentire importanti e questo ci hanno fatto crescere e c'era anche il mister Paolo Nicolato che adesso è l'allenatore dell'Andal 21 che mi ha guidato in Primavera e anche grazie a lui il mio carattere è cambiato, insomma ho capito di essere una persona seria perché lui voleva già degli uomini anche a 17-18 anni, quindi anche grazie a lui sono quello che sono. anche per il Chievo di Guagliani era un settore giovanile importantissimo, che ha buttato fuori un sacco di calciatori importanti, qualcuno che ha giocato con te in quegli anni, che aveva fatto un po' di carriera, sì c'è Provedel, la Lazio, c'è Filippo Costa che ha giocato, anche se era con la Spal, con il Parma anche, era con la Costa lì, no, col Parma no, mi ricordo alla Spal ha giocato sicuramente, però non grido, poi c'è Cuban che è stato al Genoa anche all'est, giocando, qualcuno ha riuscito a fare arrivare di calcio, di calcio a livello un po' più tra Serie A e Serie B, finisce l'avventura al Chio Verona, stagione 2014-2015, le prime presenti in Serie C, tra Lomezzane e Regina, poi ti acquista il Vicenza, l'estate dopo la Regina, e ti ciro in prestito alla Paganese, arrivi in Campania, dove Lega Pro disputi 14 partite, che ti consacrono comunque nel professionismo, che ricordi abbiamo di quegli anni. Eh, sono, devo dire che sono stati anni difficili, insomma, perché non mi aspettavo che, lo sbalzo tra il settore giovanile, e le prime squadre, insomma i professionisti, i grandi, come si dice, fosse così difficile, non me l'aspettavo veramente, ci ho messo un po' a capire, ci ho messo un po' a carburare, a crescere, e credo che solo in questi ultimi due, tre anni, io sia arrivato alla maturità vera, anche se c'è comunque ancora da crescere, c'è comunque da imparare tanto, perché nel calcio, si sa, c'è sempre un'evoluzione. C'è anche un'apparizione al Taranto, poi resti al Vicenza, poi ritorni al Vicenza, dove disputi dieci gare, e dove, soprattutto l'estate precedente, prima di andare a Vicenza, conosci una persona, che ancora oggi è una parte della tua vita, e penso sia fondamentale, Alessandra. Assolutamente sì, Alessandra è la mia compagna di vita ormai, siamo insieme da quasi sei anni, e credo che questa mia maturità sia arrivata anche grazie a lei, perché diciamo che da quando c'è, ho cominciato a vivere la vita in modo diverso, più sicuro di me stesso, perché mi aiutava, mi faceva sentire sicuro, mi ha aiutato a crescere anche sotto l'aspetto umano, insomma prendermi cura di me, prendermi cura della casa, quando magari vai a vivere da solo, da qualcun altro, perché lei è una persona molto matura, anche se è più piccola di me di un anno, insomma una persona veramente eccezionale, che però purtroppo per impegni personali non ti ha seguito, non mi ha mai potuto seguire, perché lei studia medicina a Campobasso, e di Campobasso almeno quando torno a casa so che la trovo lì, e quindi proprio in quell'anno, non so se poi è stata influente la sua presenza, in questa scelta, il fatto di andare a Campobasso dove vesti la maglia della tua città, sono 31 presenzi, 5 gol e la vostra soddisfazione. No, diciamo che quell'anno purtroppo il Vicenza è fallito, quindi mi sono ritrovato senza, avevo altri due anni di contratto, mi sono trovato senza squadra, e avevo iniziato la preparazione con la Casertana, dove però all'ultimo giorno di ritiro mi ruppi il menisco del ginocchio destro, e a me mi dovetti... Tirare fuori. Tirare fuori, insomma non mi fecero ancora il contratto, dopo l'operazione insomma rimasti a Campobasso, e da lì mi hanno cominciato a contattare, ho pensato che fosse un'attima soluzione per ricominciare, infatti quella è andata abbastanza bene. Più di 30 partite, poi giocavo comunque a casa tua, a casa. Ero proprio a casa, devo dire che è stato un nuovo inizio. Nonostante fai bene a Campobasso con la maglia della tua città, non resti, perché vai all'Avezzano. 20 presenze e un gol, perché di questa scelta non ci fu l'accordo con Campobasso? Non è stata purtroppo una scelta legata a me, perché quell'anno c'erano due presidenti, uno dei due voleva prevalere sull'altro, e ha portato un nuovo staff tecnico per l'anno dopo, il quale ha cominciato a prendere altri giocatori. Siccome io avevo solo un anno di contratto, perché in serie di quegli anni si poteva firmare un anno alla volta, purtroppo non che mi abbiano mandato via, però mi hanno fatto capire che non ero prima scelta, allora ho preferito cambiare. Ad Avezzano com'è andata? Com'è soddisfatto della tua prestazione? Sì, personalmente sì, anche se la classifica non era proprio delle migliori. Poi quello è stato l'anno del Covid, quindi si è interrotta la stagione con 7-8 partiti in anticipo, però comunque personalmente come ho detto ero felice, perché comunque quando ti trovi in una piazza dove ci sono delle soddisfazioni personali, le persone ti fanno sentire bene e ti fanno sentire amato, riesci secondo me a dare il meglio. Dopo Avezzano si torna in Lega Pro con il Matelica, dove anche lì il protagonista ha 27 presenze e 2 gol, a dimostrazione che Chiavi Magri nel professionismo ci sta tranquillamente. Ma va bene, fa parte del caccio, insomma categoria più, categoria meno. Al giorno d'oggi non dico che le due categorie si equivalgano, però comunque c'è poco da, c'è un piccolo sbalzo secondo me da fare. Non è sempre facile magari trovare la soluzione giusta, non è sempre facile trovare il posto giusto, l'ambiente giusto, quindi io essendo così introverso mi ambiento facilmente diciamo, però non sempre magari ti trovi nell'ambiente giusto e non è facile, quindi bisogna fare delle scelte, a volte sì, quell'anno comunque ho fatto bene e sono felice di questo, poi ogni anno è diverso. E' una storia a sé, perché c'è il richiamo di casa, stagione 2021, 2022 stiamo arrivando pian piano ai giorni nostri e il 26 settembre 2021 succede questo. Premio Gentleman 2022 da parte della Lega, Kevin Magri. Kevin, quel giorno si è dato un po' alla ribatta nazionale per un gesto che dovrebbe essere tra virgolette di routine, la sportività nel calcio. Raccontaci un po' dalla tua voce cosa è successo. Penso che un uomo debba fare queste cose quotidianamente, insomma, sono gesti che fanno parte dell'umanità. Purtroppo c'è stato un equivoco tra alcuni giocatori nostri e la squadra avversaria e sbadatamente il ragazzo che giocava con me, il centrocampista, è andato verso la porta, ha fatto gol, anche se avremmo dovuto restituire il pallone alla squadra avversaria. a che rimettiamo palla al centro e tra incertezze varie loro cercano di segnare, qualcuno voleva fargli far gol, qualcuno non glielo voleva far fare, la palla finisce in rimessa dal fondo, mi prendo io la responsabilità di passare il pallone dal caccio, insomma, dalla rimessa dal fondo all'attaccante che tra l'altro era Bubas. Era proprio lui. Un retroscena. Poi praticamente lui ha fatto gol e da lì diciamo che hanno visto questo gesto come gesto fair play dell'anno. Non avevo riconosciuto, forse Bubas, questo anche perché era tanto, quindi passaggio che sicuramente aveva fatto una scuola di bravi ragazzi, che magri, basta Bubas, pur anche finito Bubas, anche se ora ci arriviamo, abbiamo con i segni della corriglia di domenica. Termina la stagione, arriviamo alla stagione corrente, in estate accetti l'offerta della nocerina degli americani con il mister Sanlino in panchina che però diciamo diventa un incubo sportivo in questi mesi che hanno preceduto e arriva a Cava. Cosa non ha funzionato? O meglio, cosa ha funzionato? Ma allora, diciamo che le premesse erano buone, il mister Sanlino lo conosciamo un po' tutti, è un allenatore importante, ha allenato club importanti, è una grande personalità, quindi non ho esitato nell'accettare la sua offerta. Eri abbastanza sicuro che il progetto fosse serio? Sì, già da quando sono andato lì purtroppo le cose non erano granché, nel senso che ci mancava l'organizzazione, l'organizzazione in strutture, dove andare a dormire, per i ragazzi come me venivano da fuori e che avevano un accordo, insomma, con la società. Sì, con la società. Questa cosa, è andata avanti per qualche mese e poi, come abbiamo visto tutti, il presidente si è dimesso. Diciamo che lì abbiamo capito che già c'era qualcosa dietro prima delle sue dimissioni. Quindi, quando ti trovi in un ambiente dove ci sono piccoli segnali di allarme, ti senti spaisato, nel senso che dici, ma che succede? Alla fine voi vi vedete di questo, non è che è una passione, ma è proprio un lavoro. Quindi, si vive di questo e giustamente uno deve badare anche a portare il pane a casa. Anche perché i contratti di serie D, qui non parliamo di contratti milionari, non ti pagano 5-6 mesi, puoi vivere lo stesso. C'è anche chi ha famiglia, ha mutui, giustamente lo stipendio è quello. Cerchiamo di raccimulare il più possibile. Poi diciamo che il calcio comunque è uno sport che ti può durare 15 anni, 20 anni per qualcuno. quindi dobbiamo cercare di arrivare il più in alto possibile anche per un nostro futuro oltre il calcio. Poi a novembre arriva la chiamata di Fusco, lo dico, come è nata questa attativa, questo contatto? Raccontaci un po' qualche retroscena. Credo sia proprio semplicissimo. Il direttore mi ha chiamato, come a me ha detto, che era il direttore della Cavese, ho detto io, domani vengo anche a piedi. Non ci sono dubbi, insomma, mi ha chiamato, mi ha chiesto come stavo, se mi stassi allenando, perché in quel periodo ero fuori rosa, visto le vicende che sono successe. Niente, io ero proprio, ho chiamato subito il mio procuratore dicendo, mi ha chiamato il direttore della Cavese, voglio fare di tutto per andare là, perché insomma, sappiamo che, in che piazza siamo, vista la posizione di classifica, eravamo primi, e vista la mia situazione, non c'era proprio da pensare. Non ho proprio esitato, quindi è andata così. E arrivi a Caval, che ambiente hai trovato, che spogliatore hai trovato e che società hai trovato? Mi sono subito accorto che ero proprio in un altro pianeta rispetto a prima, quindi il primo giorno che sono arrivato, sono arrivato al campo, ho visto l'allenamento, perché, diciamo, il primo giorno ti ambiti un attimo, ho fatto riferimento a Mattia, che anche lui ha arrivato con me, l'ho guardato dopo 15 minuti di partita, che stanno facendo la Michelo e Tradino, ho detto, Matti, ma a me sembra una squadra di Serie C, cioè c'è una qualità, ci sono dei giocatori importanti che ci fanno qua, questi sono ragazzi che potrebbero giocare in categorie superiori, quindi mi sono subito accorto, ho detto, allora c'è un perché di una squadra prima in classifica, si è vista subito dal campo, quindi i ragazzi mi hanno accolto benissimo, sono tutti super gentili, da quando sono arrivato insomma mi hanno sempre messo al centro della questione. Se non sbaglio condividi la casa con tu Minelli? Sì, con Mattia, siamo arrivati lo stesso giorno, viviamo insieme, insomma, sono veramente felice di essere arrivato qua e l'ambiente è fantastico, i tifosi poi non ne parliamo, perché questo, questo, diciamo, accanimento alla maglia è ciò che spinge il giocatore poi a dare il massimo, se non ci fossero loro sarebbe uno sport noioso, effettivamente, è giusto anche che ci siano queste scintille, queste frizioni, fanno anche il bel calcio e saliamo anche alla partita di Barletta, le di Barletta, c'è stata la partita di Nocella che per te è stata una partita particolare che è stato beccato già dal riscaldamento dai tuoi ex, i tuoi ex tifosi e quindi dopo la sconfitta purtroppo, diciamo, siete stati un po' criticati un po' tutti quanti, specialmente tu in particolare che comunque venivi dalla Nocerina, il tuo esordio non è stato facile, non è stata forse una buona partita, poi se l'ho visitato del gol, ognuno ha il calcio è bello perché varia e fa parlare tutto inoglino, poi si fa la sua idea però dopo D'Altamura in poi Kevin Magri ha risposto con tre partite superlative e l'ultimo a Barletta dove insieme a Comuncare con te nocella penso che definitivamente diciamo Kevin Magri sia un calciatore importante e anche perché ci ha lasciato tre punti sulla fronte, lasciati tre punti li ha portato uno in Pacifica che su quel campo era importante sicuramente quel punto che poi alla fine è arrivato anche se a mia vista dal mio punto di vista avremmo potuto prendere il bottino pieno però il calcio è questo come dici tu è bello perché è vario è andata così cerchiamo di rifarci alla prossima insomma Domenica c'è la puteolana bisogna tornare a vincere in casa assolutamente perché dobbiamo ripartire allora in chiusura di questa bellissima intervista l'abbiamo conosciuto e scoperto il Kevin Magri che è una persona molto taciturna non parla tanto non fa trasparire le sue emozioni quindi portarlo qui è stato fatto un duro un duro lavoro da parte della comunicazione che avese scherzi scherzi a parte questo programma nasce proprio per scoprire dietro voi alle divisi alle tute chi c'è la persona la persona che c'è perché poi a Cava hai notato si passa dalla critica ad essere amato perché oggi si fa un giro sul corso Magri Magri che le ore Magri che animale sportivo perché quella chiusura che hai fatto all'ultimi due minuti che hai fatto forse 30 metri diagonale con tre punti con un sopracciglia aperto in chiusura avendo anche il fallo credo che riacquista definitivamente l'amore o meglio l'affetto dei tifosi perché stai rispondendo sul campo forse delle critiche un po' ingiuste iniziali è il nostro lavoro è giusto che veniamo criticati quando le cose non vanno bene ed è giusto che veniamo acclamati quando le cose vanno bene e per questo penso e vorrei far passare anche il messaggio che per noi è importante essere sempre non farci prendere troppo dall'entusiasmo quando le cose vanno troppo bene e dall'altra parte non bisogna demoralizzarsi quando le cose non vanno male bisogna essere equilibrati finché non finisce il campionato anche se magari vinci dieci partiti di fila per me deve rimanere sempre il profilo basso perché poi è un attimo che cadi giù in chiusura di questa bellissima intervista Kevin un messaggio ai tifosi in vista della Putolana domenica grande partita bisogna andare a vincere in casa sì assolutamente sì è importantissimo è stato importante il punto con cui stato a Barletta e il mio messaggio ai tifosi è ovviamente di essere presenti allo stadio di essere numerosi speriamo di riempire tutto tutto lo stadio e visto il muro blu di Barletta è stata un'emozione unica andare lì sotto dopo la partita e quindi spero che la stessa cosa potrà succedere domenica in casa è stato un'emozione un'ozione